Dottore Vito Esposito ha organizzato un quadrangolare fra due strutture spedaliere di Napoli ma l'idea non finisce qua, intanto come nasce? L'idea nasce da un mio progetto molto più grande, questo è soltanto un quadrangolare, un test per verificare la fattibilità o meno appunto di questa mia idea che è quella di creare un campionato vero e proprio tra i vari reparti in particolare di urologia e di ginecologia perché questi sono i target dell'azienda delle varie strutture pubbliche e private per il momento della campania. Un progetto che vuole ingrandirsi per fare in modo da creare delle sinergie fra le strutture spedaliere ma soprattutto poi per cercare di fare anche beneficenza con il ricavato di questo torneo? Sì, perché diciamo che questo evento rappresenta sì un momento ludico ma soprattutto la finalità, l'obiettivo è quello di avere un scopo appunto benefico magari di coinvolgere persone che riescano a creare una sinergia per avere un ricavato da devolvere per un progetto di ricerca da me già finanziato. Questo progetto per adesso oggi vede coinvolto soltanto due strutture spedaliere di Napoli ma nel tempo coinvolgerà anche le strutture spedaliere dell'area Flegrea? Assolutamente sì, appunto dicevo questo è soltanto un test per verificare la fattibilità diciamo che la risposta è stata da subito positiva perché già abbiamo avuto richieste da varie strutture ospedaliere e private di poter partecipare al campionato una di queste è proprio l'ospedale Laschiana di Pozzuoli. Grazie Grazie Grazie